Malizia profumo, malizia toujours, malizia uomo, l'intesa raddoppia. Gola fresca valda, la nuova caramella balsamica. Gola fresca valda è dura. Nessuno se l'aspettava così dura. E anch'io. Gola fresca valda, dura, anzi durissima. Scusate se approfitto della televisione per un messaggio privato. Senti Gerardo, io capisco che tu mi abbia chiesto l'auto pur avendo la tua per fare bella figura con il cavalier Bistazzoni. Capisco che il cavalier Bistazzoni abbia lasciato il sedile reclinabile un po' troppo reclinato. Capisco perfino che il cavalier Bistazzoni indossi questo tipo di scarpa. Ma quello che non capisco è, se sei così tentato dalla mia Fiat Tipo, perché non te la compri? Io non l'ho mai provato Urra. Provalo, Urra Saiva, è tutto nuovo. Ma Urra non l'ho mai provato. Beh, peggio per te. Urra Saiva, se non mordi non ci credi. Eh, l'ultima. Carlo. Dessert coppa bianca. Puoi iniziare dalla panna montata. Divina. Carlo. Puoi tuffarti nella crema di cioccolato. Squisito. Carlo. Oppure insaporarle insieme. Sublime. Carlo. Ah, la mia coppa bianca. Franca, mi cercavi? Dessert coppa bianca. Il piacere che ti manca. Da nome. Chi altri. Paolo, 14 anni. Un ragazzo fortunato perché può dire Mai avuto carie in vita mia. Da anni Dentifricio McLean's lavora proprio per questo, perché tutti un giorno possono dire Mai avuto carie in vita mia. Oggi McLean's aggiunge al fluoro il calcio in GP. McLean's è un passo avanti nella prevenzione della carie. Commando. Un'assoluta prima visione timore. Commando. Arnold Schwarzenegger in commando. Commando. Prossimamente su Italia 1. Impulse Parfum di Adorano. Vi offre. Finalmente, un sabato sera diverso. Attenzione, attenzione. Pensaggio speciale per il ladro Lando Rossi. Detto Croppaterata. Dal maresciallo Giraldi. Aspetta Balladino. Do da mangiare al celtico e vengo là. Ma chi ha fatto il maresciallo Giraldi? Squadra Anticipo. Squadra Anticipo. Domani sera alle 20.30 su Italia 1. Violento Showman. Ecco il mio sole blu. Chi vuole sole blu? Ciao. Voglio il pulito su tutto il bucato. E mi raccomando i colli. Sole blu. Aiutami tu. Sole blu. Detersivo liquido. Senza prelavaggio. Pulisce in profondità. È forte sullo sporco, ma rispetta i tessuti e i colori. E lascia il bucato... Pulito e morbido. Come una carezza. Sole blu. Pulito profondo per tutto il bucato in lavatrice. E da oggi, nuovo. Sole blu anche per il bucato a mano. Russa, sempre così? Non saranno mica gli adenoidi? No, è perché dorme a panci in su. Sarà vero? Il medico risponde. L'enciclopedia della salute che risponde a migliaia di domande come questa. I primi due fascicoli sono già in edicola a sole mille lire. Una proposta di Agostini. Io ce l'ho profumato. Due volte. Con mental verde e mental bianco. Perché mental? Profuma l'alito. Che devi capito? Per voi, mbe? Mental faci. Mental faci. Mental faci. Buongiorno. Scusi, signore, ho sbagliato casa. Ma questa è casa sua. La mia è lei, eh? Sì, già, non mi riconosce? Sempre peggio. Devo andare a matrimonio con Zia Natalina. E chi t'ha pettinata, Frankenstein? No, è francese. Si chiama Antoine. Oh, madame, viene uno succo. Dino, come sto? Basta che non ti metti vicino alla torta annunziale, se no qualcuno col coltello qui... Ma questo è arte. Non me ne ne è corto. Ecco il caffè. Se le interessa l'arte, questo è un capolavoro. Ne è sicuro che è quello buono. È suo. Qualità oro lavazza. Sì, fantastici. È l'arte lavazza. Più lo mandi giù, e più ti tira su. Per lavare bene la lana e i capi delicati. Li ho provati tutti. E quanto mi è costato. Poi ho provato Vulite. Oggi credo solo a Vulite. E vi assicuro che un flacone di Vulite costa molto. Ma molto meno di un lavaggio sbagliato. Sì, perché Vulite mantiene ai miei golf la forma, i colori e quella morbidezza che amo. E anch'io mi sento più bella. Io credo a Vulite. E per tutti i capi delicati lavatrici c'è Vulite polvere. Io credo a Vulite. Metro Drive-In Mayor presenta Full Metal Jacket. E tu? Che cosa hai da ridere? Ti faccio ridere forse io? Signore, signor, non signore! E allora, fermi, scrivono, dimmi come ti chiami! Signore, mi chiamo Palla di Grazzo, signore! D'ora in poi ti chiamerai Palla di Lardo! E allora ti piace Palla di Lardo? Signor, sì, signore! Drive, domenica alle 20.30, su Italia 1. Mamme, vi dimostriamo l'asciutto di linee solo. Sì, con l'evaporimetro, strumento sensibilissimo per verificare il grado di asciutto della pelle. Misuriamo, ad esempio, il palmo della sua mano. È bello asciutto e segna 30, vedete? Ora bagniamo questo linee solo. Vedrete che con linee solo, Marco Lino siede sull'asciutto. Lo verifichiamo? Segna 28, come il palmo della sua mano. Linee solo, asciutto come il palmo della sua mano. Approvato dai pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri. J&B Scotch Whiskey Dove conta il carattere. Per San Valentino, regala l'originale. Winchester, un gesto che parla di te nel tempo. Winchester, the original. Noi, con i nostri baci Noi, tutti insieme, noi Baci mondo Abbiamo il suo mondo di baci Gillette Contour Plus Con l'Ubra Street Contour Plus Scivola più dolcemente sul tuo viso Una dolcezza che continua anche dopo la rasatura Sistema Gillette Contour Plus Una rasatura più profonda Una rasatura più dolce Per una vacanza al mare o un tour esclusivo Pensa ad Alpitour Per cortesia, ci cambia orizzonte Ma certo, signore Perché quando sei in vacanza Nessuno, come Alpitour Sa pensare a te A-a-a-a-alpitour Winchester, il mito senza tempo, vi offre Provini Come scegliere un volto per uno spot pubblicitario un film, una telenovela Conduce Gianni Ippoliti Attenzione, silenzio Uno sguardo uno sguardo provocante Su Bravo Più provocante Di più di meno, di meno Rovini domenica alle 22.15 dopo Drive-In su Italia 1 Per San Valentino regala l'originale Winchester un gesto che parla di te nel tempo Winchester the original In un tubo c'è più di un bacio Buongiorno, sono una goccia d'acqua Pling, pling penetro dalle finestre scivolo dai box doccia e piano piano rovino tutto Scusi, come dice? Ho capito, me ne vado Bostick si riconcide La casa ha bisogno di cura Bostick I sigillanti Boston Henningham La gente oggi ha sempre meno problemi di carie e sorride più volentieri È un grande risultato per chi come pasta del capitano continua a sviluppare la ricerca scientifica sui benefici del fluoro La nuova formula di pasta del capitano contiene due sale di fluoro per essere attiva contro la placca rallentando nella formazione e contro la carie rinforzando lo smalto Dai laboratori di ricerca dottor Ciccarelli basta del capitano Per capelli ricchi di volume e luminosità c'è uno shampoo che risponde alle tue esigenze individuali Shampoo Shantel ad azione selettiva pulisce perfettamente e dolcemente dappertutto perché i tuoi capelli sono più grassi in alcuni punti e più secchi in altri Shantel Shampoo e Balsamo ad azione selettiva capelli così fanno girare la testa Sai tesoro c'è un detersivo per i piatti che non fa male alle mani della tua mamma è nuovo Last Neutro Neutro sì anche nel colore Neutro sì ma sciogli l'unto in un attimo niente è più efficace sui piatti Last Neutro è il futuro come te Prova nuovo Last Neutro Neutro per mani che si amano Cadet Caprio Vai per tono Vi offre A carnevale ogni scherzo vale Noi per carnevale siamo stati invitati ad una festa molto struttiva E fu subito Halloween la notte delle streghe Quest'anno mi potrei travestire da eticola Non voglio vestirmi da buste Non so mica più un bambino Il carnevale è intelligente Io sai che ti dico che c'ho nostalgia dei bucci e dei suoi scherzi di abito a prete Come l'hanno detto I ragazzi della Terza C Martiria alle 20.30 su Italia 1 Attenzione Repubblica annuncia l'inizio di Portfolio 88 Stop Portfolio Si gioca solo con le nuove tesserine arancione Ma cos'è il jolly? Tutti particolari sul Repubblica I want my portfolio Arriva Portfolio 88 Più bello, più ricco, più ghiotto I want my portfolio Capitano Pindu Tutto andiamo per i mari Con il notto capitano Lavorare di allegria L'appetito fa aumentare Così buoni bastoncini Beato chi li mangerà Mamme, il merluzzo migliore è pieno di forza nei bastoncini Così bianco e croccante Tutta forza, che bontà Bastoncini di Capitan Pindus Buon pesce Tanto gusto Tutta forza E questo cos'è? È il dispenser Acqua Fresh 3 strisce Più facile da dosare Col suo speciale erogatore Sempre pulito Acqua Fresh aiuta a prevenire la carie Rallenta la formazione della placca Rinfresca l'alito Tutto in un unico dentifricio Fantastico Acqua Fresh Acqua Fresh Studio Line Studio Line Gel wet look Studio Line Spray fisso K Spuma super fix Pazze idee per un nuovo look De L'Oreal Studio Line Scorpisci i tuoi capelli Come puoi tu I ricevimenti dell'ambasciatore Sono noti in società Per il buon gusto del padrone di casa Gusto italiano Che conquista i suoi ospiti Oh Ferrero Rocher Beautiful Excellent Ma sì Con Rocher ci ha proprio iniziati Ferrero Rocher Una creazione dell'Italia che piace Ruggero Ruggeri Ruggero Ruggeri Gemelli Ruggeri Il gioco sarebbe lì Siamo diversi Per la matriosca Adesso proprio Comunque va bene anche un'altra trasmissione Basta che ci prendete Matriosca Da lunedì 22 febbraio Su Italia 1 È bellissimo Così ricco da cambiarmi la vita Un altro uomo Ho perso in testa Quanto lo sogno il biglietto miliardario di Big Sun Festival Un miliardo e 264 milioni Ed è ancora in giro Qui bisogna comprare tanti fustini Io l'ho già fatto Uno Altri amore altri Vado Per amore E per denaro Big Sun Festival Ecco il biglietto che vince un miliardo e 264 milioni Chi lo trova è miliardario Riscoprire il piacere di creare con le tue mani Fermare nelle forme, nei colori, nei materiali più diversi la tua creatività Oggi è facile con voglia di creare Guida pratica ai lavori manuali Dalla ceramica al vetro, dal cuoio al legno Ogni settimana voglia di creare ti svelerà le tecniche I segreti necessari per trasformare ogni tua idea In tanti preziosi pezzi unici I primi due fascicoli di voglia di creare sono già in eticola Una proposta di Agostini Voglia di creare una parte di te Salute Tria Mimic Tendenza a miglioramento dei sintomi di raffreddamento Piccola compressa a lunga durata È un medicinale usare con cautela In tempo di pioggia Difficile trovare un pneumatico che tiene di più Uniroyal Uniroyal Il pneumatico pioggia Il pneumatico pioggia Victors respira vivo Vi offre Chi di voi non ha almeno un ricordo legato a una canzone Un primo bacio Una bravata Le dichiarazioni d'amore I litigi Sono questi i nostri sogni Sogni Ricordi Ma siamo diventati grandi O no Mi manca da morire Questo pico Yesterday Vacanze al mare Venerdì alle 20.30 Su Italia 1 Saper cosa dire H.I. presenta La potenza dei radioregistratori La forza degli i-fi H.I. La perfezione d'immagine dei videoregistratori La purezza del suono dei compact disc H.I. Sfida alla perfezione Qualche volta le vostre mutandine hanno fretta di lasciarle Mai sentito parlare di licia intima? Una linea completa di gene intima si cura al 100% Per farvi voler bene dalle vostre mutandine Licia intima Un'amica intima Un'amica intima Le pastine Barilla. In queste piccole specialità all'uovo c'era chiuso un sapore gustoso, proprio quello che volevi trovare a casa. Dove c'è Barilla? C'è casa. Mi hanno chiesto di fare uno spot per quel gato antitartaro. Uno nuovo? Pensa che hanno scoperto che già dopo tre mesi di uso il tartaro praticamente non aumenta più. Era poco dire, è solo che lo rallenta. Vuoi dire che per una volta il prodotto è migliore di quello che dicevate in pubblicità? Sembra proprio di sì. Ti piace tutto questo, eh? Mi piace. Mi piace invitare la gente a sorridere. Se non chiediamo aiuto, quello ci ammazza. Seguirà Terror Train.